Le nuove droghe fanno paura ed è necessario che i più giovani ne conoscano composizione e pericoli. La dipendenza o la tendenza ad esserlo la si potrebbe riconoscere precocemente da alcuni stili di vita. Sono ricerche importanti queste, realizzate dalla Facoltà di Bioscienze dell'Università di Teramo, studi che hanno fatto il giro del mondo. C'è una interrelazione stretta tra per esempio le dipendenze create anche dall'IT, quindi dal cellulare, dallo smartphone, dall'uso compulsivo di Facebook piuttosto che Instagram e altri social network. E questa possibilità di alimentarsi troppo con il cibo può portare anche all'uso di droghe. Quindi diciamo che ci sono dei campanelli di allarme che devono essere messi bene in evidenza, soprattutto nei giovani. La Facoltà di Bioscienza ha una potenza di fuoco, di chimica analitica enorme, noi collaboriamo anche con la polizia scientifica in questo ambito, per il riconoscimento di nuove droghe, quindi di nuove molecole che ahimè sono sintetiche e sono commercializzate da queste, diciamo, ovviamente la mafia, da queste associazioni a delinquere e queste nuove droghe sono forse tra le più pericolose. I risultati sulle nuove droghe, sui meccanismi delle dipendenze, sono stati ampiamente illustrati nell'aula magna dell'Università di Teramo dai ricercatori teramani agli studenti delle scuole superiori, uno degli incontri previsti dal progetto Craino, che mira il coinvolgimento delle generazioni più giovani. All'iniziativa è intervenuta anche la diocesi di Teramoatri, impegnata in prima linea contro le tossicodipendenze. Una diocesi, in questo caso la diocesi di Teramoatri, come può o come aiuta concretamente i ragazzi affetti da dipendenza? Beh, li deve aiutare soprattutto tenendo presente che la dipendenza non è necessariamente legata soltanto ad una dimensione negativa dell'esistenza, ma può essere legata anche ad una dimensione positiva che non si riesce a gestire. La dipendenza può nascere sia dall'incapacità di gestire il successo, sia dalla incapacità di saper gestire il dolore. E di conseguenza la diocesi ha il compito fondamentale di educare questa nuova generazione ad affrontare l'esistenza, la capacità di affrontare sia il dolore e la capacità di saper gestire eventualmente il successo che uno meritevolmente, attraverso la sua preparazione e le sue capacità, può ottenere nella sua vita.